Svolta imprevista nella storia d'amore tra Demir e Züleya. Mentre Demir inizia un'appassionante relazione con Ymit, il cuore di Züleya è intumulto. La donna, dopo aver celato per troppo tempo i suoi sentimenti, in un momento di autentica sincerità, confida a Demir. Anch'io provo lo stesso profondo amore per te. La genesi di questa sorprendente rivelazione risiede nelle osservazioni perspicaci di Sevda. Con intuito femminile, ella riconosce l'inespresso. Ma potente legame che sussiste tra Demir e Züleya, nonostante la loro apparente riluttanza nel manifestarlo. Sommersa dal tormento per la tragica scomparsa di Yilmaz, Züleya si ritrova in una spirale di tristezza e isolamento, creando un distacco con Demir. Lui, misconoscendo la profondità dei sentimenti della moglie e temendo di averla persa per sempre, cerca conforto altrove, trovandolo inaspettatamente in Ymit. Prima di immergerti in questo video, assicurati di iscriverti e di attivare le notifiche. Grazie. Questa nuova liaison porta Demir a trascorrere sempre più notti lontano dal focolare coniugale, accentuando le crepe nel loro rapporto. Parallelamente, Sevda, testimone del dolore lancinante di Züleya, la sprona a riconquistare il suo amore e a dare una nuova chance al legame che li unisce. Dopo profonde meditazioni e incoraggiata dalle parole di Sevda, Züleya prende coscienza del costante sostegno di Demir, specialmente ora, con l'ombra della scomparsa di Yilmaz ad oscurare il suo cuore. In un momento di lucidità, decide di abbattere i muri, rinnovando l'amore con Demir. Ma, come in ogni dramma, un'imprevista rivelazione cambia le carte in tavola. Mentre Demir è immerso nei momenti romantici con Ymit, riceve una chiamata angosciante da Sevda, che gli annuncia un serio pericolo che incombe su Züleya. Senza esitazione, Demir si precipita al suo fianco, determinato a proteggerla ad ogni costo. In ospedale, l'atmosfera tesa e carica di preoccupazione li porta a confrontarsi con la dolorosa idea di un futuro separato. Ma la passione e l'amore autentico prevale. In un impeto d'emozione, Demir avvicina le sue labbra a quelle di Züleya, che ricambia il bacio con tutta l'intensità del suo sentimento. Nella storia d'amore tra Züleya e Demir, un momento chiave è alle porte. Dopo una recente intimità tra i due, Demir è pervaso da dubbi. Egli è convinto che Züleya non provi veri sentimenti d'amore per lui, e con un tono di voce carico d'emozione e vulnerabilità esclama «Züleya, non ti sentire obbligata a rispondermi, ma devi sapere che io ti ho promesso di stargli al fianco e proteggerti. Non desidero che tu mi ami per compassione o dovere. Voglio che sia un sentimento sincero». Queste parole, intrise di un profondo amore e altruismo, colpiscono il cuore di Züleya come un fulmine. Sente un nodo alla gola e sa che è il momento di aprire il suo cuore. Con gli occhi lucidi e la voce tremante sussurra «Demir, la verità è che ti amo». Lo so, Sevda aveva già intuito tutto, mentre io negavo questa realtà, lottando contro i miei stessi sentimenti. Non so quando sia accaduto, ma ad un certo punto mi sono resa conto che ero perdutamente, irrimediabilmente innamorata di te. L'intensità di questo momento è tangibile. Demir rimane quasi senza fiato, completamente sopraffatto da queste parole. Lacrime di gioia e sorpresa gli solcano il volto, ma Züleya, osservandolo, nota il suo silenzio prolungato e, con una punta d'ansia, gli chiede «Demir, sei felice di ciò che ti ho appena rivelato?». Con un filo di voce, lui risponde «Sei la realizzazione del mio più grande sogno. Mi scuso per ogni singola lacrima che ho fatto scendere dai tuoi occhi». Mentre i due si avvicinano, Züleya prosegue «Nei giorni in cui te ne andavi, il pensiero di te con un'altra mi tormentava, e capivo quanto il mio amore per te fosse profondo e reale. Questa confessione è come un balsamo per l'anima tormentata di Demir. Con occhi colmi di emozione, lui sussurra una promessa. Ti proteggerò con ogni fibra del mio essere e farò di tutto per non vederti mai più soffrire». Ma ora, prima di proseguire con il resto del video, ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Lascia un commento e condividi la tua prospettiva con noi. Ora proseguiamo con il video. Nell'atmosfera carica di emozioni, Züleya si perde negli occhi penetranti del suo marito. Leggendo la sincerità e il tormento nel suo sguardo, comprende che Demir non ha mai desiderato ferirla. Sa che ora lui si trova in una complicata situazione con un'altra donna, ma l'amore che provano l'uno per l'altro è così forte che Züleya, con voce dolce e tremolante, gli sussurra «Ora, più che mai, voglio concentrarmi sul nostro futuro e su quello dei nostri figli». Il loro legame sembra rinascere, più solido e profondo. Al loro ritorno a casa, Sevda, sempre attenta osservatrice, percepisce la crescente intimità tra i due. Con un tono leggermente scherzoso, domanda a Züleya. «Quando pensi che voi due tornerete a dormire insieme, come una vera coppia sposata?» Züleya, con una punta di malinconia, ammette di desiderare la vicinanza di Demir, più che mai. Sevda, sempre pronta a sostenere l'amore, decide di intervenire. «Affronta Demir, cercando di dissipare le sue incertezze. Se tu le porgi la tua mano, le dice con fermezza, sono certa che Züleya la prenderà senza esitare». Spinto dalle parole di Sevda, Demir si avvicina con decisione alla stanza di Züleya. Mentre apre lentamente la porta, i loro sguardi si incrociano, carichi di desiderio e anticipazione. Demir le tende la mano, e con un passo deciso, Züleya lo raggiunge. Si abbracciano con intensità, lasciandosi travolgere dall'amore e dalla passione. Una notte indimenticabile li attende. Al sorgere del sole, la stanza è avvolta da una luce dorata. Demir e Züleya giacciono teneramente avvolti l'uno nell'altro, fino a quando il piccolo Adnan, con un sorriso contagioso, irrompe nella stanza, risvegliando i due innamorati. È un nuovo giorno, un nuovo inizio, e tutto ciò che è accaduto prima sembra un lontano ricordo. Nel corso dei giorni successivi, Demir cercherà Umit per un confronto decisivo. Rivelerà di non aver mai avuto la reale intenzione di divorziare da Züleya, perché le fiamme del suo amore per lei ardono ancora vivaci. Prendendo una decisione audace, Demir preparerà una sorpresa mozzafiato, un viaggio inaspettato per Züleya. Durante questo idilliaco ritiro, in un momento di pura emozione, Demir estrarrà un anello e proporrà a Züleya di rinascere come coppia, di rinnovare i loro voti matrimoniali. Züleya, con gli occhi lucidi d'emozione, risponderà con un caloroso «sì», simbolizzando una rinascita della loro relazione. Nonostante gli alti e bassi, le sfide e le difficoltà che hanno attraversato, il destino sembra aver tessuto un percorso per riportare Demir e Züleya insieme. Ora, con una comprensione più profonda dei propri sentimenti, vivranno momenti di pura beatitudine. Questi momenti rivelano una profonda trasformazione nella loro relazione ed i loro sguardi reciproci sono specchi di un amore autentico e incondizionato. Ripensando al passato, Demir esprimerà il suo pentimento per il dolore che ha causato a Züleya, sottolineando come lui sia una persona cambiata. Sarà profondamente grato per questa seconda possibilità ed escriverà la loro riunione come un sogno che ha finalmente avuto la possibilità di realizzarsi. Purtroppo, qui si conclude la nostra anticipazione. Per immergersi ulteriormente in queste romantiche avventure e non perdere altre emozionanti storie, non dimenticare di iscriverti al canale.